Buongiorno, signora Danuta. Dov'è mio marito? Che siete venuti a fare qui? Questa non è casa vostra! Avevamo nostalgia. Signore, per caso ho visto la mia pallina? Non riesco a trovarla. Non avete rispetto neanche per una donna. Ma le Ducati. Tiri fuori la pistola e ci spari. Stia calma, signora Danuta. Stia calma. Non mi calmo solo perché me lo dice l'altro. Guardi pure, è una perquisizione regolare. Lasci stare, come si permette! Non ha un briciolo di vergogna. Se ha fame, le preparo io qualcosa da mangiare. Degli uomini così belli e così maiali, che cosa sta cercando lì? La trasmissione! La trasmissione!